Ciao e benvenuto, benvenuto in questo video in cui io e Johnny ti andremo a parlare di dolore alle mani. Infatti anche Johnny ogni tanto soffre di dolore alle mani, mi chiede che cosa bisogna fare per il dolore alle mani e quindi in questo video andrò a dare dei consigli un po' generali su quelle che sono le cose migliori da fare e quali sono le cose da evitare per i vari dolori alle mani. Sono Francesco Lanzini, fisioterapista e fondatore di Fisiosocial e se questo video ti sembra interessante e vuoi vedere degli altri video per migliorare il tuo benessere sia dal punto di vista fisico che mentale anche se sei sano e non hai nessun acciacco ti invito ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato o aggiornata su tutti i nostri nuovi contenuti. Questo video vuole essere una guida generale per la maggior parte dei dolori alle mani. Infatti le cause dei dolori alle mani possono essere diverse, artrosi, artrite, tunnel carpale e così via ce ne sono molti altri. possono essere tra le cause un po' più comuni dei dolori alle mani che hanno un denominatore comune che è la rigidità. Ovviamente ogni caso va valutato nella singola situazione, queste però sono dei consigli sulle cose che in generale non sono così risolutive e quindi che è meglio magari andare ad evitare e invece sulle cose che possono invece cercare di fare la differenza sul benessere e sul dolore delle mani in generale. Quindi quali sono le cose da fare? Innanzitutto ci sono alcuni casi in cui l'artrosi oppure l'artrite, il tunnel carpale sono parecchio avanzate, quindi il dolore è molto forte ed in questi casi ad un certo punto quello che bisogna fare è andare a fare una visita da un ortopedico che è specializzato magari in questa problematica, in queste problematiche e nei dolori delle mani e andare a vedere se può essere il caso di fare un intervento per andare a risolvere una volta per tutte la situazione tramite un intervento chirurgico. Ma invece se sei una di quelle persone che non ha dolore tutti i giorni o magari ha anche dolore tutti i giorni ma non è così intenso e comunque lieve uno dei consigli può essere andare a fare degli esercizi per togliere la rigidità. Infatti in commercio ci sono moltissime terapie come per esempio gli ultrasuoni, gli ultrasuoni in acqua, la magnetoterapia che vengono proposte per i vari dolori alle mani ma bisogna ricordarsi che queste terapie sono un po' come un antidolorifico cioè hanno un effetto che ha una durata temporale limitata. Cosa significa? Con queste terapie io vado a togliere un pochino il sintomo quando, attenzione perché non sempre, tante volte funziona ma non sempre funzionano queste terapie e quando funzionano si riesce a diminuire un pochino il dolore ma non si va a togliere la causa della rigidità, non si va a togliere l'artrosi, non si va a togliere l'artrite, non si va a togliere il tunnel carpale. Quindi l'effetto che hanno queste terapie come gli ultrasuoni, il laser e potrei andare avanti a delencarne anche altre hanno solo l'utilità di riuscire a diminuire il dolore quindi magari si starà meglio per una settimana, due settimane, un mese quando va bene, due mesi quando va benissimo ma poi si ritornerà sempre punto e a capo. Quindi se ti ritrovi in una di queste situazioni in cui non ti è ancora stato proposto l'intervento chirurgico perché magari non è ancora così grave la situazione ad andare a intervenire chirurgicamente ma ti sono state proposte altre terapie che hanno un effetto temporaneo come quelle che ho citato prima il mio consiglio è invece di andare a fare queste terapie di provare una serie di esercizi che possano andare a diminuire la rigidità a livello delle mani e delle dita. A tal proposito ti invito ad andare a vedere il nostro video in cui ci sono diversi esercizi per la rigidità delle mani e delle dita e soprattutto per il rinforzo. Devi sapere infatti che non è importante solo andare a togliere la rigidità ma che molto spesso quando ci sono queste problematiche di dolore alle dita c'è un problema sia di rigidità ok ma anche di debolezza quindi quello che bisogna fare è andare a fare degli esercizi per rinforzare le dita di stenderle e andare a migliorare quella che è la mobilità. Infatti devi sapere che quando si hanno questi problemi la cosa migliore non è star fermi cercando di evitare che l'usura delle articolazioni vada a peggiorare perché questo non avviene anzi la cosa più importante è cercare di muoversi. Questo era un video teorico in cui volevo solo dare delle indicazioni su come andare ad intervenire su queste problematiche e per darti dei consigli su quali terapie evitare. Il consiglio finale rimane comunque questo quando si hanno problemi muscoloscheletrici il consiglio è quello di cercare sempre di agire sulla causa e di evitare qualcosa che crea una dipendenza da una terapia oppure da un terapista ok? L'obiettivo è che durante la giornata tu possa fare degli esercizi o comunque eseguire delle azioni quotidiane che possano diminuire la quantità di dolore. Se una terapia ti costringe soprattutto se è cronica quindi dura da più di sei mesi ad andare da un terapista di persona per farti star meglio non sarà mai una terapia risolutiva perché in questi casi tu dovrai essere costretto ad andare o tutta la vita dal fisioterapista o tutta la vita a fare queste terapie che in realtà sono un po' uno specchio per le allodole cioè riescono solo a togliere i sintomi ma temporaneamente senza togliere la vera causa del problema. Quindi se non l'hai ancora fatto ti invito ad andare a vedere il video che ti ho indicato prima sugli esercizi per diminuire la rigidità e migliorare la forza dei muscoli e delle mani e dei polsi e se questo video ti è piaciuto ti invito di nuovo a lasciarmi un like e ad iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti e conoscere altri contenuti sul miglioramento dei dolori muscoloscheletrici. Ciao e al prossimo video! Ciao!